Buonasera scusate il ritardo Sono tornata da Brescia Poi avevo sbagliato sera come al solito Perché sono fatta così Per fortuna che c'è Enrico che mi ricorda tutto Metto gli occhiali altrimenti non vi vedo Ciao Luciana, ciao Monica Ciao Fabio Ciao Enrico dove sei? Scusate ma sono in ritardo Avevo sbagliato sera Ciao Enrico, ciao Ciao Aurora Ciao scusate ma Poi ho fatto tutto di corsa Sono in camera perché ho dovuto attaccare la spina Per forza al coso più vicino Scusate la prossima volta mi organizzerò meglio Ho proprio perso la sera perché sono sempre in viaggio in questi giorni E diventa Ciao Luci Meglio ridere perché sono così Mi dovete prendere come sono Io sono sempre così Ormai Enrico Mi conosce Buonasera Graziella Allora Anna e Enrico hanno Con me naturalmente Mi hanno deciso di fare questa rubrica Faremo una volta al mese Per rispondere alle domande Per rispondere alle domande Perciò se avete le domande Tutte le domande a cui posso rispondere Naturalmente Nel mio piccolo Sono qui proprio per rispondere Ciao Isabel Buonasera Perciò se volete partire con le domande Visto che abbiamo un'oretta Così riesco a rispondere Naturalmente per quello che so Vi chiedo ancora scusa Ma sono tornata da Brescia stasera Domattina riparto per Bologna Poi la prossima Poi pensavo fosse domani sera Perciò avevo spostato tutti gli appuntamenti di domani sera Per fare la diretta Ciao Cinzia Ciao Luciana E Luciana Quello che volete sapere Quello che vi incuriosisce Naturalmente sull'argomento Che tratto io L'oltre Gli angeli Buonasera Isabel Sto guardando i commenti Ciao Silvana Perciò naturalmente nel limite Cioè in quello che so Ecco non è che Ciao Simona Piacere anche mio Ciao Carmen Ciao Adele Ciao Sono sempre la solita suonata Adele Non sono mica cambiata ancora Come state voi giù in Sicilia Ciao Monica Ciao Gina Ciao Sto cercando di organizzare a Bari Perciò A febbraio Sono giù sicuramente In un paese lì vicino Non al solito Ciao Giussi Ciao Aurora Ciao Sto bene Sì sì Tornerò l'anno prossimo Grazie Enrico Grazie Grazie Mi viene da ridere Perché sono tanto suonata Che guarda Per fortuna mi ha chiamato Ciao Tiziana Buonasera Susi È un messaggio per me Grazie No Tiziana Lo sapete che io non faccio Messaggi Non do messaggi O contatti in diretta Ormai l'ho detto Tantissime volte Non mi piacciono Mi piacciono le cose Disservate Allora Vado a leggere Non chiedetemi Sì 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 a Bari Penso febbraio Angela Sto cercando di organizzare Non lì perché Questa storia del Green Pass Diventa un problema Allora mi dice Luciana Te le faccio una di domanda Come li vedi trapassati Che vengono da te E li vedo come erano in vita Naturalmente loro non sono così Perché hanno Sono fatti di energia No? Non è il loro aspetto attuale Però per farsi riconoscere Li vedete bene Per farsi riconoscere Si fanno vedere Con le sembianze Di quando erano in vita Allora Vediamo Fabio dice Cosa c'è dopo la morte? Un'altra vita È un'altra vita Un'altra vita Meravigliosa Con dei sentimenti Completamente diversi Da quelli che abbiamo In questa vita Non ci sono Non ci sono sentimenti Di rabbia Non ci sono sentimenti Di rancore Non ci sono sentimenti Di dolore È semplicemente amore Amore, pace E luce Sono questi sentimenti Che ci sono Dall'altra parte Non c'è assolutamente Nessun tipo Di sentimento cattivo Ecco così Non c'è invidia Non c'è giudizio Gina dice Speriamo per l'inizio Dell'anno Si è ricercata Qui ti stiamo aspettando Sì 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 no Ma a febbraio Ci sono Sto organizzando Poi ci sentiamo Al telefono Cristiana Susi Ma non lo sapevo Neanche io Cristiana Perché avevo Avevo sbagliato Sera Pensavo fosse domani sera Perciò Pensavo fosse domani sera Avevo sbagliato sera Anch'io Ci siamo sentite ieri Che è il compleanno Di Cristiana Pensavo fosse sabato Vorrei sapere Se i nostri cari Che sono morti Hanno la possibilità Di guidarci Nella nostra vita Loro hanno La missione Di guidarci Nella nostra vita Il lavoro Che Fanno dall'altra parte È proprio di guidarci Di guidarci In questa vita Di darci consigli Di lasciarci segnali Dipende da noi Se riusciamo ad ascoltare Nel modo giusto Allora Perché Susanna Che mi chiamo Susi Anna dice Ciao Susi Buonasera Luciana Grazie Sempre gentilissima No siete gentili Voi vi ringrazio Cinzia dice Ho sognato mio figlio Piccolissimo Circa un anno e mezzo Con una tutina rossa Che non ricordavo nemmeno L'altro mio figlio Invece la ricordava Perché l'ho sognato Così piccolo Guarda Di preciso Non te lo so dire Però spesso Si fanno vedere Molto più piccoli Il motivo esatto Non te lo so dire Il fatto È che Proprio Si A volte Si fanno vedere Molto più giovani Però L'importante È vederli I sogni Sono incontri Sai che sono incontri Molto importanti Fabio Grazie Sei fantastico Grazie Sono rincoglionita Non fantastica Roberta dice Li vedi come quando Erano nella materia Sì Anche perché Allora Io li vedo anche Esattamente come sono adesso Però Se io Quando faccio un contatto Descrivessi Quest'ombra di luce Descrivessi Questa sagoma Quest'energia Che sento Che vedo Chi li riconoscerebbe Loro si fanno vedere Come erano nella materia Proprio perché Dobbiamo riconoscerli Cioè se io ti dico Guarda vedo Una forma di luce Mi dici Ma chi è Potrebbe essere chiunque No Se io invece ti descrivo Le sembianze Di quando erano in vita Si riconoscono Cristiana Che bel regalo Grazie Rosario dice Da quanto tempo Vedi gli angeli Allora Da quanto tempo Vedo i nostri cari Vedo Le anime di luce Che sono i nostri cari Defunti Fin da piccola Li vedo Da sempre Gli angeli Ho cominciato a vederli Un po' più tardi Nell'adolescenza Carmen dice Come si può migliorare La nostra sensibilità Nel percepirli Guarda La serenità È la La forza più grande Che abbiamo Per Per Aspetta Stai più Enrico mi dice Di stare un po' più Di stare Ecco Arrivo Mi è caduto tutto Va bene così Enrico Allora Proprio Bisogna ascoltare Bisogna osservare Bisogna portare Serenità Perché se abbiamo Dei sentimenti Che ci Creano disturbo Che sia dolore Che sia rabbia Che sia rancore Che sia preoccupazione I nostri canali Si chiudono I canali Dobbiamo tenerli aperti Tenere collegato Anima Corpo e mente Proprio per percepire Quello che ci dicono Quello che ci fanno vedere A volte non è importante Sentire le voci È importante Seguire Le indicazioni Che ci danno Ci danno tantissime Indicazioni Vi faccio un esempio Recente Che è successo a me Da due mesi Dico che Io dal 10 di dicembre Mi voglio fermare Voglio stare un po' Con mio nipote Con mio figlio Non mi sono fermata Sono due anni Che non mi fermo un giorno E ho detto Quest'anno Voglio preparare le cose Natale Voglio fare le mie cose In casa E dal 10 di dicembre Mi fermo Ieri l'altro Ho saputo Che il 10 dicembre Ho un problema Comunque risolvibile Però c'è bisogno Della mia presenza E c'è bisogno Che io ci sia Insomma Perciò Vedete Senza sapere Il perché Mi dovevo fermare Solo un mio desiderio Era già Una cosa Indicata da loro Perciò Bisogna ascoltare Questi segnali Allora Si è bloccato No Mi è caduto il telefono Silvana Aurora dice Susi Hai avuto contatti Con persone scomparse Che ricercavano Qui sulla terra Aspetta In che senso Susi Hai avuto contatti Con persone scomparse Che ricercavano Qui Sì 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 Cioè Intendi dire Qualcuno che mi ha chiesto Di ricercare persone Che non sapevano Dov'era Dov'erano Sì Li ho avuti Se erano di là Sì Mi si sono fatti vedere Mi hanno dato delle indicazioni Ho aiutato dei genitori Delle persone A ritrovarli Naturalmente Dall'altra parte Allora Rita dice Buonasera È la prima volta Che ti seguo Grazie Ho fatto una bella figura Come prima volta In ritardo Allora Sto andando avanti Per cercare Di Di leggere Allora Anlu Scusi Buonasera Ciao Grazie Buonasera Sono rincoglionita Silvia dice Come posso fare Per andare da lei Ho perso la mamma Ho perso la mamma Giugno E vorrei trovare Un po' di pace Come posso fare Per andare da lei Dalla tua mamma No Non ho capito Silvia Non ho capito bene Cosa vuoi dire Allora Siaga sta guardando Ciao Siaga Ciao amore Rita dice Io ho perso un figlio Mi dispiace tesoro Ma stanno bene Sai Comunque Non hai mai avuto Un messaggio da lui Contatti con lui Mariella dice Buonasera Susi Buonasera Annenrico Buonasera a tutti Buonasera Io vorrei tanto Un messaggio Da mio padre Morto molto male Allora Ve lo ridico Io Lo sanno tutti Io non faccio Contatti in diretta O in questo modo Non mi piace Non è rispetto Nei confronti Né della persona Che ho davanti Né di loro Perciò sono proprio Contraria Non ho mai fatto Contatti in diretta Non li faccio Non do messaggi così Tere dice Io ho perso mio fratello Otto mesi fa Mi manca da morire Vorrei sapere Che c'è Certo che c'è Ciao Antonella Ciao Adriana Allora Mi dice Aurora ti dicono Il nome della persona Che le ha uccisi Assolutamente no Assolutamente no Non lo possono fare Sarebbe accusare qualcuno Loro non accusano mai nessuno Anche perché Per loro c'è sempre Un motivo Spirituale Per quello che succede Non diranno mai Danno delle indicazioni O il posto Dove sono stati seppelliti O come sono stati uccisi O Tanti particolari Ma non danno mai Il nome della persona Che le ha uccisi A me non è mai successo Carmen dice Susi volevo chiederti Se è normale Le vibrazioni che sento nel corpo Quando percepisco Qualcosa Ho perso il coso Quando percepisco qualcosa Qualcuno Formicolio Respiro affannoso Allora Respiro affannoso Non credo proprio A volte Danno Il senso di tachicardia Brividi Di caldo e freddo Ma respiro affannoso Non credo proprio Però non lo so Capito Ognuno può reagire A modo suo Silvia Ah sì da me Ah ho capito Ah sì Beh prendiamo appuntamento Mi contatti in privato Prendiamo appuntamento Ciao Laura Rita si parecchi bene Sono contenta Danno un po' di sollievo Non è che Una mamma che perde un figlio Il dolore ce l'ha sempre dentro Però il sollievo Le prove che danno Ci danno un po' di aiuto Roberta dice In sogno vedo spesso papà Che nell'oltre Ma incontro anche persone Che non conosco Che interagiscono con me Secondo te Perché si avvicinano a me Beh perché si avvicinano a te Non lo so Anche perché si avvicinano a tutti Hai capito Perciò Siamo sempre circondati Da tutti Ciao Claudia Ci siamo viste oggi È la prima volta E ho chiesto Per sapere come si fa Sì sì adesso ho capito Hai capito Perciò Noi ne abbiamo tantissimi vicini Cioè siamo abituati E vogliamo Vedere Chi abbiamo amato Chi ci manca Chi incontriamo Ma in realtà Qualsiasi persona Possa venire dall'altra parte È un grande regalo Perché sono C'è un'unione di là Una condivisione Un'un amore unico Perciò che arrivi una persona Che arrivi l'altra Fa sempre bene Perciò bisogna sempre ringraziare Qualsiasi persona arriva Allora Vediamo se ci sono altre domande Graziella dice Sulla malattia si esprimono? No No Non ti dicono mai Quello che ti succederà A volte Spesso Ciao Graziella Ciao Antonella Capita Che ti O ti indichino In un modo velato Di O anche a volte Preciso Di andare A fare una visita Di Mi contatti su Messenger Silvia Ti indicano O di fare Una Una visita O altrimenti È capitato a volte Che ti dicessero Devi superare Delle sofferenze Degli ostacoli Però stai tranquilla Che andrà tutto bene Perciò ti preannunciano Che se anche qualcosa Arriva Hai capito Sia a livello Di malattia O di Difficoltà Che puoi superare Ti dicono Che va bene Se Ti devi ammalare Di qualcosa Di brutto A me non è mai successo Che lo dicessero Io rifiuto Un po' Questa cosa Perché credo Che non sia giusto Sapere Il futuro Su queste cose Però Ti aiutano Ad anticipare A prevenire E ad indicarti La strada giusta Antonella Dice grazie Per questo diretto Ho perso il papà Un anno fa Come oggi Sentire che ci sono Che ci sono vicini È un balsamo E lo so Lo so E poi bisogna proprio Cercare di capire I segnali Che lasciano Roberta dice Grande Susi Quello che hai detto Ciao Patrizia Quello che hai detto L'ho riscontrato È sempre Ma non lo dico io Lo dicono loro Io riferisco E basta Sono semplicemente Un tramite Grazie a te Grazie a te Grazie a te Mariela dice Susi Attendibile Sapere Tramite Tramite un contatto Che si allontanneranno Per un periodo Per cambiare Gli impegni assegnati E salire più in alto No Assolutamente no A me non è mai successo Allora Tu ti riferisci Nello specifico Ad un suicida No Assolutamente no Allora I suicidi Intanto A me è capitato Che loro Quando Parlano E che Spiegano Il motivo Per cui se ne sono andate Ad un suicidio La parola suicida Non la usano mai Loro parlano Di un'esperienza Voluta E non sono puniti Non sono mandati In un altro posto Non sono mandati In un luogo Buio Di rovi Come ho sentito Diverse volte Vanno Nello stesso Posto dove andiamo noi Aiutano Sono aiutati Ed è comunque Per loro Un'esperienza Che insegna A chi rimane Sulla terra Perciò Sono tutte Bagianate Ve lo posso assicurare Perché conosco Persone che si sono Suicidate Le ho viste Subito Le ho viste Mi hanno raccontato Mi hanno lasciato Dei messaggi Bellissimi E straordinari Perciò Hanno Assolutamente Lo stesso Percorso Che abbiamo Noi Graziella Dice Susi Lei crede Al progetto Che facciamo Prima di incarnarci Cioè Il fatto Che decidiamo Diamoci del tu Graziella Intanto Che decidiamo Prima quello Che ci succede Sì Quello che dobbiamo fare Sì Ci credo Perché me l'hanno spiegato Io non ci credevo Non credevo neanche Alla reincarnazione Quando ero più giovane Invece mi hanno proprio spiegato Che le vite Servono Ad imparare Che decidiamo Che decidiamo Assolutamente Quello che dobbiamo fare Insieme alle persone Che dobbiamo fare È tutta una cosa Studiata E guidata Molto semplice Molto amorevole Senza troppe difficoltà Però sì Ci credo Perché me l'hanno raccontato Mariella dice Un errore Non prevedibile Così ripete Non ho capito Sul suicidio Dici assolutamente no Non sono assolutamente D'accordo Grazie a te Graziella Forse non ho capito È sul suicidio Che intende Un errore Non prevedibile Assolutamente no Se è quello No Te lo assicuro Aurora dice Grazie per le tue risposte Scusi Voglio dirti Che a distanza di mesi Nel nostro incontro Ne ascolto ogni tanto La registrazione E sono tornate Tante tante cose Lo so Aurora Lo so perché Mi fa piacere Che tu me lo dica Ma me lo dicono tutti Il messaggio Che rivelano Va avanti nel tempo Ti danno Dei piccoli Particolari Che poi tornano Sempre Immediatamente Perciò Mariella dice Chiede perdono Per il dolore causato Per non aver svelato La malattia mentale No guarda Secondo me Io non sono assolutamente D'accordo Ma non voglio discutere Su questa cosa No Io non sono Assolutamente D'accordo Allora Un genitore O un parente Che ha perso Qualcuno Col suicidio È comunque Da tranquillizzare Loro La verità La dicono A me hanno sempre Parlato di esperienza E te lo dico Che sono sicura Perché io Ho persone vicino a me Che si sono suicidate E hanno Dei messaggi Bellissimi Di là Non chiedono perdono Sono tutte cose Comunque Già scritte Già sapute E già decise Di conseguenza Che sia in un modo O nell'altro Se il giorno Deciso È quello Noi in un qualche modo Dobbiamo andare Loro non chiedono perdono Perché comunque È un'esperienza Che insegna tanto Noi purtroppo Esseri umani Per imparare Dobbiamo soffrire Perché se abbiamo tutto Se siamo felici Non impariamo Un accidente di niente Questo non vuol dire Che Dio ci dà La sofferenza E Dio ci punisce È semplicemente Un percorso Di conoscenza E di insegnamento Che ci viene dato Tramite l'esperienza Che facciamo Che ci siamo scelte E che siamo In grado Di sopportare Però io sono Un po' stanca Di sentire Dire Dire la verità Queste cose Sui suicidi Ci sono tantissimi Ragazzi Purtroppo Che si sono suicidati Dice In questo periodo Dice Perciò È una cosa assurda Che vengano Così Come posso dire Che le persone suicide Vengono così Segnalate In questo modo Sono esperienze Per loro Comunque Che fanno E Ripeto Non sono puniti Non chiedono perdono Perché comunque Dall'altra parte Hai una mentalità Molto diversa Cioè Non fai le cose Per punire le persone La morte Per loro Non è una cosa brutta La morte Per loro È un trapasso E anche per noi Dobbiamo imparare A vederla così La vita è un viaggio Un viaggio Che ci insegna Un viaggio Che comunque Dobbiamo imparare Tante cose È una scuola C'è chi farà Le elementari C'è chi farà Le medie C'è chi farà L'università E in base a questo Poi ritorneremo Faremo le altre esperienze Ma Ci insegnano Ad amare questa vita Indipendentemente Dai dolori Che ci dà Dalle prove Che ci dà Ed è importantissimo Amare questa vita La vita è comunque bella Abbiamo una possibilità Di imparare tanto Come un ragazzo Povero Che ha la possibilità Di fare l'università Che costa tanto È la stessa cosa E i suicidi Sono anime Come altri Che muoiono di malattia Che muoiono di incidente Che se ne vanno Per qualsiasi tipo Di motivo Causato dalla terra Perché comunque Il motivo terreno Ce l'abbiamo Però non devono essere Sempre così colpiti Sono anime Straordinarie Sono anime Straordinarie Rosario dice Ci sono dei nostri cari Appena passati Nell'oltre Che rimangono Per qualche mese Nelle loro case Ho perso Accade perché Non vanno subito Verso la luce Sono autorizzate A restare per un po' Vicino ai loro cari No A me non è mai successo L'anima Quando si stacca dal corpo Va subito Va subito Dall'altra parte Poi che vengano Nelle loro case Sì Loro sono continuamente Accanto a noi Sono sempre Intorno a noi Ma non è che rimangono Qui Viaggiano Di là Di qua Di là Di qua È una cosa straordinaria Perché comunque L'anima viaggia In modo molto veloce E non rimangono Non può rimanere L'anima sulla terra È una cosa assurda Questa Io ho sempre visto Anche persone Appena andate Persone a me care Che erano subito Nella luce Cioè L'anima va subito Dall'altra parte Sono due mondi Uguali Paralleli Sono due mondi In cui il corpo Vive qui Insieme all'anima Quando l'anima Lascia il corpo Vivere di là Torniamo a casa È la nostra casa E mi hanno detto Anche che quando Arrivano di là Si ricordano Tutto il passato Quello che è stato Vissuto sia dall'altra parte Che da questa parte Silvia dice Come capiterà a tanti Nonostante la mamma Fosse il centro Della mia vita Ho tanti ramarichi Per non aver fatto Abbastanza per lei Ora mi potrà perdonare Guarda Silvia Non farti questi problemi Perché La tua mamma Non ha nulla Di cui perdonarti Siamo umani Tanti errori Li facciamo A volte Diamo per scontato Che vivremo Per sempre Perciò Non bisogna Farsi tutti Questi problemi Bisogna parlargli Adesso Ti sente Perciò Digli che gli vuoi bene Digli che Sì Avresti voluto Digli una parola in più Però Questa è la vita Siamo esseri umani E sbagliamo A livello Di amore Ciao Beppe Ciao Anna dice Buonasera Quando c'è un presunto Errore medico Riguardo ad una malattia Quando loro Trapassano Non vengono a conoscenza Di quello che è successo Non sanno nulla Anna Sanno tutto Vedono tutto Sanno perché Se ne sono andati Ma ripeto A volte Accanirsi Sul motivo Per cui Qualcuno se ne va È inutile E crea solo disagio Perciò Non bisogna Pensare a questo Non bisogna Arrabbiarsi Per quello che succede Bisogna vedere La morte Dobbiamo imparare Loro ci stanno Insegnando tantissimo A vedere la morte Come questo viaggio Straordinario Con questo Non vuol dire Che dobbiamo cercarla Vuol dire Che Li dobbiamo Comunque Accompagnare In questo In questo viaggio Dobbiamo continuare A parlargli Dobbiamo Trattarli E tenerceli Vicini Come quando Erano in vita Continuare a parlare Con loro Io ho l'abitudine Al mattino Di bere il caffè Io mi preparo Sempre due tre tassine A me piace il caffè Però mi preparo Sempre due tre tassine Mio papà piaceva A mia mamma piaceva Perciò io me le preparo E poi me le bevo tutte Però è come Continuare a vivere con loro Non fare delle cose con loro Sì Antonella È possibile Mi contatti su MES E do l'appuntamento Allora Vado a leggere Mariella Dopo quasi due anni Dove sarà adesso? È nel posto È un mondo unico Non pensiate che ci siano Dei paesi Delle varie stazioni È là dove è andato Due anni fa Mio padre dopo 59 anni È là nello stesso posto Dove è andato È questo mondo È un mondo parallelo al nostro È la nostra casa È sempre allo stesso posto Grazie a tutti Grazie a tutti i nostri amici E ci siamo qui Siamo vivi Siamo qui Roberta dice Ho perso Roberta Il disegno divino Per noi spesso Per noi è incomprensibile Sì Ma non è così incomprensibile Basta pensare Guarda è molto facile Pensare a volte Complichiamo molto le cose Però il disegno divino Ce lo siamo scelte anche noi Non è che ce l'hanno Messo davanti E noi dobbiamo seguirlo Involontariamente Il disegno divino Ce lo siamo anche scelti Abbiamo comunque Scelto insieme alle persone Che dobbiamo vivere In questa vita Quello che dobbiamo fare Poi c'è il libero arbitrio Ci si può arrivare In un modo o nell'altro Però se noi dobbiamo Prendere un tremo Un treno Da Piacenza Devo arrivare a Roma Io a Roma ci arrivo Dipende da me Quante fermate voglio fare E come le voglio fare Libero arbitrio Però in quel punto Io ci arrivo E non posso andare Né oltre Né prima Graziella Ma le persone Che ci fanno del male Che responsabilità Hanno una volta Nell'oltre Ce l'hanno In questa terra Graziella Si paga tutto Bisogna stare attenti A far del male Bisogna cercare Di portare pulizia Il più possibile E cercare di Portare amore Nella nostra anima È un discorso Molto lungo E difficile Questo Però Non vengono puniti Dall'altra parte Dio Ragazza Non punisce È l'uomo Che punisce È l'uomo Che è cattivo È l'uomo Che giudica È l'uomo Che è atroce È l'uomo Che è terribile Ma di là Non c'è punizione Tutto quello Che si sconta È il male Che si fa Lo si sconta Sulla terra Perché è qui Che c'è il dolore Di là Di dolore Non ce n'è Anche se poi Quando si va Dall'altra parte Si capisce Tutto quello Che si è fatto Se noi abbiamo Fatto del bene Ci rendiamo conto Di quello Che abbiamo fatto Abbiamo i ricordi Loro dicono Che passa C'è uno schermo Bianco Che Ha dei sottotitoli E passano Tutti i momenti Della nostra vita Perciò viene Dato comunque Il ricordo E la memoria E Si capisce Se si è fatto Del male Naturalmente Abbiamo un'evoluzione Più alta Se abbiamo fatto Del bene Se abbiamo fatto Del male L'evoluzione È più Bassa Cioè Dobbiamo fare Varie vite Per poter Comunque Arrivare Ad alcuni livelli Perché comunque C'è un lavoro Anche dall'altra parte Ma è un lavoro Molto diverso Di quello Che facciamo Sulla terra Anna Maria Dice Ma è proprio Come il film Lo solar No Secondo me No Anna Maria Però sai Ognuno Ha Le sue idee Per me Non è così Per quello Che ho visto Io Vengono Etichettate Chi Patrizia Chi è che Viene etichettato Non viene etichettato Nessuno Dall'altra parte Queste sono Tutte parole Pensieri Umani È una cosa Molto più È tutto Fatto con l'amore Dall'altra parte Giuse Dice Susi Anche io A distanza Da mesi più Ascolto il messaggio Di più capisco Tante cose Oltretutto Riascoltando il messaggio Proprio nei primi secondi Si sente una voce maschile Che dice Qualcuno c'è qui Non c'era nessun uomo Nemmeno nelle vicinanze Chi era Eh non lo so Chi era Sicuramente era qualcuno Che voleva salutarti Qualcuno dei vostri cari Succede nelle registrazioni Siccome io faccio Registrare sempre Il messaggio Che si sentano Le voci Bisogna sempre Riascoltare anche Quello che c'è sotto Allora Ciao Angelo Angela buonasera Patrizia dice Non è giusto Cosa non è giusto Patrizia Simona dice Io faccio fatica A credere Nella presenza Degli angeli Posso chiedere loro Di manifestarsi In qualche modo Come fare a chiedere La loro manifestazione Ma guarda Simona Io per contattare Gli angeli Sinceramente Ringrazio Sempre E gli parlo Non chiedo Non chiedo mai Di darmi delle prove Io gli parlo Gli ringrazio Continuamente Al mio angelo Chiedo aiuto Anche solo Per le minime Sciocchezze E lo ringrazio Prima che avvengano Questi miei Desideri Che esprimono Che mi Aiutano Comunque Ad esaudire Però Io non Chiedo Loro si manifestano Per conto loro Quando c'è bisogno Di manifestarsi Di solito Gli angeli Arrivano Molto di notte E ci abbracciano In un modo Molto forte A volte Staventano Mariella Il percorso Che dobbiamo fare Guarda Rosaria Questo periodo A me era stato Annunciato In un modo Molto velato Nel 2012 Io un messaggio Che ho scritto Che ho postato Tutti i messaggi Che ricevo Dal mio angelo Io li posto Io li posto Perché sono So che sono Veritieri Poi a volte Non capibili Subito E loro hanno Parlato di questo Periodo L'hanno proprio Preannunciato Otto anni fa Ma anche Oriana Fallaci Ho letto Che comunque Aveva previsto Questa cosa Non so se L'aveva prevista Lei O se aveva capito Che comunque Sarebbe successo Attraverso degli studi Non lo so Però so che Era già stata detta Angela dice Si li vedo Angela Si Allora Ma volevo chiedere Se posso Io Non ho l'idea Chiaro Su una cosa Quando moriamo Dicono che andiamo Di là E troveremo I nostri cari Ma si sono Reincarnati No Perché la reincarnazione Patrizia Avviene dopo Tantissimi anni E solitamente Ci reincarniamo Insieme Con ruoli diversi Con vesti diversi Con corpi diversi Con storie diverse Ma ci reincarniamo Insieme Monica dice Quando si subisce Un torto grave Non si riceve Giustizia in terra Si spera Nella giustizia divina O nel karma Se non esiste inferno E non ci sono Punizioni particolari Come si esplica Questa giustizia Esiste? Quando si subisce Un torto grave Ma dipende Da cosa intendi Per torto grave Allora Io Mi sono abituata E mi hanno insegnato Che quando c'è qualcosa Che mi ferisce Che subisco un torto Mi prendo sempre Mi prendo sempre Le mie responsabilità Non è mai colpa Solo degli altri Bisogna un po' Guardarsi in faccia E prendersi Le proprie responsabilità Mi spiego meglio Se io Sposo una persona Che amo E che mi ama Poi Però so Che questa persona Ha comunque Dei problemi Che può non essere La persona per me Che è cattivo Che ha Non so Una storia pesante Intorno Io insisto Per stare questa persona O prendendo botte O avendo qualcuno Che non lavora Adesso sto facendo Degli esempi E continuo a farmi Del male Io mi devo prendere La responsabilità Di dire Io voglio stare Con questa persona Anche se so Che mi fa tutto questo Sono libera Di non mettermi Con questa persona Perciò già Vedi Ogni torto Comunque È un po' Da guardare Sia da una parte O dall'altra A volte siamo noi Che non riusciamo A toglierci Di dosso Situazioni E continuiamo A permettere Che qualcuno Ci faccia qualcosa Però è sempre Responsabilità nostra Non è mai responsabilità Degli altri Siamo noi Che dobbiamo Smettere O di farci fare Del male O comunque Di a volte Di reagire male Nei confronti Di chi Involontariamente A volte ci può Fare un torto È un discorso Ampio Questo qua Non è È questione Sempre di responsabilità La giustizia C'è C'è È in noi La giustizia Io credo Nella giustizia divina Credo Nella giustizia Di Dio E sono convinta Che la persona Che fa del male O che è cattivo Non è felice Sono più felice Io Che se mai subisco Sto zitta O subisco E soffro E piango Però io Io vado avanti Nella mia evoluzione L'altra persona La persona Che fa Che crea Questo dolore Questo male Una persona Che fa del male Non può essere felice Già questa è giustizia Secondo me Questo è il mio parere Buongiorno Spiegarla Silvia dice Grazie Le tue parole Sono di grande Conforto Le parlo Spesso alla mattina Durante il giorno Prima di addormentarmi La ringrazio Per l'amore Che ho provato E che provo Per lei Le chiedo Dio Ti ho perso Le chiedo Di starmi Vicino Brava Raccontagli Anche delle cose Da ridere Raccontagli Le cose Che fai E' giusto Parlare Come prima Ci sentono Sai E rispondono Allora Cucceli Siccome posso Sentire mia figlia La devi ascoltare Tesoro Vanno ascoltati Bisogna osservare Ogni minima cosa Bisogna stare Il più sereni Possibile Proprio Per Per Poter aprire I nostri canali Beppe dice Il Dio Tirano E' un'invenzione Della Chiesa Bravissimo Non volevo dirlo Ma Mi hai preso Le parole di bocca Dio amore Francesca dice Anch'io me lo chiedo Che cosa Parlavamo Delle persone Che si suicidano Ancora No Patrizia Non stavamo parlando Delle persone Che si suicidano Stiamo parlando In generale Delle persone Che fanno del male Stavamo parlando Adesso Io ho smesso Di parlare Dei suicidi Perché ho già detto Quello che penso E preferirei Non andare oltre Mara Maria Dice Mio fratello È morto Il 7 aprile Penso che sia arrivato Nella luce Ma arrivano subito Dopo due minuti Pensate che ero Ero a Como A fare dei contatti Quattro anni fa Mi sembra E c'era un funerale Pensate che il defunto Era lì da parte E io ho descritto il defunto Senza sapere Chi era Perché nessuno Lo conosceva Poi La ragazza Che mi Mi organizzava Gli appuntamenti È andata a chiedere Per avere la prova No? Che Infatti era un uomo Era lì da parte Ed era nella luce Non era Non ci vuole Tanto tempo Non ci Vanno subito L'anima Si stacca E va subito Di là Mariella dice Aspetta eh Che lo trovo Mariella Cecilia E mia figlia Dedica frasi d'amore Al suo Gaetano Dedica canzoni All'inizio Riceveva frasi bellissime Poi sta Molto depressa Sta ancora male Aspetta eh Lui nell'ultimo contatto Era più distaccato Fino Era freddo Distaccato L'ha ribadito Di fare la sua vita Non pensare più al passato Perché non esiste L'ha tolto Ma io non ci credo Ma chi è che ti ha dato Un messaggio del genere Ma io Io Mariella Non so con chi hai parlato Sinceramente Ti sento dire Delle cose Che per me Sono assurde Poi io Non so chi è che ti ha detto Ste robe Però non è vero Assolutamente Ciao Franca Patrice Loro vengono etichettate Ma chi loro Chi è che viene Non viene etichettato Nessuno di là Siamo noi Che etichettiamo Le persone Che diamo giudizio Di là Non viene etichettato Nessuno Ce l'ho spiegato bene Ma stiamo scherzando Ma allora Che senso avrebbe Questa vita Scusate ragazze Ma se dobbiamo Essere giudicati Essere cattivi Essere prepotenti In tutte e due le vite Che senso ha questa vita Non avrebbe senso Stiamo di là E rimaniamo di là Facciamo il percorso terreno Dall'altra parte Non ha senso questa cosa Qui c'è tutto quello Che è di giudizio Ed è di male Di là non c'è niente Di tutto questo È tutta un'altra vita Ma nessuno viene etichettato In terra Veniamo etichettati Che c'è sempre qualcosa da dire Ma di là no Buonasera Ornella Roberta dice Durante i sogni La nostra anima Può veggiare nell'aldilà Sì 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 assolutamente sì Ornella dice Credo negli angeli Brava Ti fa bene Fa bene se credi negli angeli Esistono Di niente Patrizia Ciao grazie Gisella Ciao Susi Ciao Perdo i cosi Rosario dice Quando i nostri cari Si accompagnano nell'oltre Sono davvero loro Si tratta di un'illusione Che viene data Per facilitare Facilitare il nostro passaggio No Rosario Secondo me Sono proprio loro No Non ha senso Che sia un'illusione Sono loro Assolutamente A me tante volte Nei messaggi Dicono Sono stato accolto E dicono il nome Anche di chi Li ha accolti No Perciò non possono essere Illusioni Perché io non conosco Le persone che vengono da me Danno tantissime prove Assolutamente Ciao Carmela Ciao Un bacione Ciao Bella Franca Io ti ringrazierò sempre Di averti conosciuto È stato il più bel regalo Che potevo ricevere Quando sono in crisi Le leggo i tuoi scritti E me la serena subito Franca Io ringrazio voi Perché io Per merito loro Per mano loro Conosco delle persone straordinarie E tu sei una di quelle Gabriella Domani avrò un incontro particolare Che mi ha causato tanto dolore Come posso chiedere aiuto Con il cuore Gabriella Chiedi con amore Con il cuore È la cosa giusta Franca arrivano subito Sì Arrivano subito Franca dice Ma non c'è un periodo Di transizione No Franca Di questo ne sono certa Sono strassicura Che non c'è un periodo Si va di là Siamo accolti subito E siamo Stiamo bene A volte si avvertono Giuliolla dice A volte si avvertono I loro profumi Tipo l'odore delle sigarette Che fumavano I profumi che usavano Sì è vero Sì sì è vero Assolutamente sì Ciao Rachele Mariella dice È una persona Che fa scrittura automatica Ha detto pure A mia figlia Secondo i messaggi telepatici Di Gaetano Che lui non può venire In metafonia Non può parlare Non ho mai voluto Creare i dissidi A mia figlia Ma ho sempre avuto Dubbi in merito E fai bene Ad avere dei dubbi Ma fai proprio bene Ad avere dei dubbi Bisogna stare attenti Sapete a chi A chi vi dice Certe cose State molto attenti Non è assolutamente vero Tranquillizza tua figlia Che non è vero Figuriamoci Se non può venire Da una parte o dall'altra Possono arrivare ovunque È la cosa che vogliono fare Proprio portarci amore Tenerci tranquilli E continuare E continuare L'amore L'amore che avevano in vita Gigliara dice A volte di sera o di notte Averto le vie carezze Sui capelli È possibile che sono loro Certo Che sono loro È possibilissimo Uccelli pelosi Mi chiamo Mariella Sono la mamma di Serena Aspetta Dov'è L'amore di Serena È volata in cielo La mattina Mi ha chiesto di aiutarla Perché C'era tanta gente vicino a lei Le facevano domande Lei rispondeva Dicendo la data di nascita C'era come in un'intervista Mi disse anche C'è il nonno È già mancato anni Certo Vedi che C'è qualcuno Che ci viene a prendere È bellissima sta cosa Ciao Antonia Mara dice Sono sempre mia madre Arrabbiata Molto distaccata Da me Questo mi fa molto soffrire Cosa ne pensi Mara Sei tu Che hai Probabilmente Qualcosa Quando Quando Li sogniamo Arrabbiati O distaccati Perché siamo noi Che abbiamo paura Che siano arrabbiati Perché abbiamo qualche senso di colpa Anche a volte inutile Senza nessuna Senza nessun motivo Dipende sempre da noi Loro non sono mai arrabbiati Hanno sempre quest'anima Bellissima Piena d'amore E dipende da noi Laura dice Cinque anni fa Mia mamma Tre giorni Precedente alla morte Le sei di mattina Ho ricevuto il messaggio Che la A me la morte Era una voce metallica Molto forte Ancora mi chiede Era l'angelo Della morte Ma non esiste L'angelo della morte Ma sto sentendo Delle cose Che per me Sono assurde Ma cosa c'è Una voce Loro hanno Una voce afona Comunque quando ci dicono Le cose Non hanno Le corde vocali Non hanno la voce Come noi È qualcuno Che ti poteva avvisare Per prepararti Ma cos'è l'angelo A questa cosa Un bellissimo messaggio Rosalia dice Ciao Sui Se il buon Dio Vuole Ci vediamo Domenica Bologna Ah ok Rosalia Rosalia va bene E parto domani mattina È vero che possono venire Da noi col permesso di Dio Loro hanno il permesso di Dio Di venire da noi Perché il loro compito È proprio di starci vicino E di stare con noi Di guidarci Di aiutarci Di farsi sentire Cercano il nostro colloquio Cercano la nostra vicinanza È molto importante Parlare con loro E continuare a colloquiare con loro Hanno il permesso di Dio Per alcune situazioni Per poterci dire alcune cose E per fare Per avere qualche missione Ma per venire da noi Ce l'hanno sempre Prossima settimana Viene aperta la barra di mio papà A 30 anni la sua partenza Poi verrà cremato Io sarò presente Gli sto dicendo da giorni Che desidero occuparmi Dei suoi resti con amore Ha preso la giusta decisione Il consiglio E per quel momento Ti porterò un fiore Guarda Si aspetta che guardi il nome Perché non ho visto Antonella A loro non interessa niente Queste cose Queste cose terrene I funerali Le bare Cremarli Togliere il corpo È una cosa che dipende da noi Quello che fa piacere a noi A loro non interessa più Del materiale Di che fine fa il corpo È come un vestito Buttato via il corpo Quando si va di là Perciò devi fare Quello che ti senti tu Quello che ti fa star bene Quello che ti fa sentire in pace È una questione materiale Ed è solo nostra Di noi umani Non loro Mariella Spero di averti aiutato A vedere le cose In un modo diverso Buonasera Bella diretta Grazie Io abito in provincia di Comodo Potrei incontrarti E conoscere Io abito in provincia di Piacenza Non siamo distanti Sono venuta a Comun Maria dice È vero che mia madre Non si è arrabbiata con me Dipende da noi Ma almeno solo un messaggio Da lei Perché l'amo tanta La saluto ogni sera Guardando una stella Guarda Mara Se ascolti E se osservi Loro arrivano Con delle risposte velate Ma con tanti messaggi Sai Basta ascoltare E osservare Roberta Dicendo Mi fu detto Il corpo Un abito usato Nulla di più Ragazzi Sono le 10.40 Abbiamo stato insieme Un'ora Vi chiedo Scusa ancora Del ritardo Vivo Parma Antonella Eh Siamo vicini Un'oretta Neanche Un'oretta Ci vediamo La prossima data Non so qual è Sentiamo Enrico Perché io ve l'ho detto Sono suonata Come una campana Per farle altre domande Per continuare Il discorso Possiamo anche trovare Degli argomenti E parlare solo di quello No Tanto siamo Decidiamo tutti insieme Non decido io Decidiamo quello che vi interessa di più E quello che volete sapere di più Adesso vado a letto Perché domattina Mi alzo prestissimo Per essere a Bologna Rispondo a Dorina Dorina dice Siamo tutti esseri spirituali Quando capiremo questa cosa Le cose cambieranno solo in bene E questo bellissimo Pianeta diventerà paradiso Lui cercano in tutti i modi Di farci capire Vivere con gratitudine Roberta E metafonia sono stella Girara dice Loro che sono nella luce Ci occupano di tutti Quelli che amavano qui in terra Tipo che amava la musica Studiare la musica Che amava dipingere Ma no No Non è così Assolutamente La loro missione È comunque di starci vicino Di guidarci E di Di evolvere la propria anima Ciao Aurora Buonanotte Grazie Beppe Grazie Grazie a tutte voi Vi ringrazio tantissimo Vi chiedo scusa ancora Per il ritardo E ci vediamo alla prossima data Tanto È la rubrica Se poi avete domande Ancora scrivetele Io appena Riesco a rispondere Vi rispondo Ok Poi ci vedremo comunque in diretta Vi mando un bacio Grande Vi ringrazio Ringrazio Enrico Ringrazio Anna E siete speciali tutti Perciò Mi piace molto stare con voi Vi abbraccio forte Alla prossima Buonanotte 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 Grazie.